È stata firmata da 166 professori di varie scuole superiori della provincia di Pesaro-Urbino la lettera indirizzata al governo, nelle figure del ministro dell'istruzione nazolina e dei trasporti dei Micheli, al presidente della regione Francesco Acquaroli e al prefetto Vittorio Lapolla, per chiedere il ritorno in presenza degli studenti in classe. Gli insegnanti firmatari dei licei Mamiani, Marconi, Mengaroni, Nolfi Apolloni, Raffaello, Scuola del Libro e Torelli, rimarcano come a metà settembre le scuole abbiano riaperto in sicurezza anche grazie alle importanti risorse economiche investite nei mesi estivi. Problematica per la quale invece non sono arrivate le risposte sperate è quella del trasporto pubblico. I docenti firmatari del manifesto sottolineano come le misure messe in campo all'interno degli spazi scolastici siano state continuamente osservate e rispettate da parte degli studenti, i quali però hanno dovuto fare i conti con la complicata organizzazione del trasporto pubblico, in primis ad esempio con il mantenimento della distanza minima di sicurezza sui mezzi. Un messaggio brutalmente anti-educativo, scrivono i professori, che sottolineano come studentesse e studenti abbiano vissuto la percezione di una scuola pubblica che li tutelasse, a contrario delle difficoltà emerse nell'organizzazione dei trasporti. Altro nodo rimarcato dai docenti è quello della didattica a distanza. Imposta da inizio novembre in forma integrale a tutti gli istituti superiori, a prescindere dal colore della regione. Misura che, come riferito dai firmatari, in nessuna forma può rappresentare un'efficacia alternativa alla didattica in presenza, venendo a mancare il contatto reale tra studenti e professori e accentuando una sorta di isolamento digitale. Indispensabile, afferma quindi il corpo docenti, che ognuna delle istituzioni competenti si assuma la responsabilità della riapertura trovando le migliori soluzioni e possibilità che garantiscano la sicurezza dei ragazzi. Alcuni esempi illustrati dai firmatari si riferiscono all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ad una corretta rimodulazione degli orari delle corse dei mezzi e l'impiego di forza di pubblica sicurezza che possano vigilare sull'entrata e sull'uscita degli studenti, per scoraggiare eventuali comportamenti imprudenti. Il desiderio dei prof, quindi, è quello che si applichino tutte le risorse possibili per una pianificazione a medio e a lungo termine che garantisca una scuola sicura e in presenza, pronta a riaccogliere nell'auspicata riapertura del mese di gennaio anche gli iscritti delle scuole superiori.